grande successo al villammare film e friends il festival dedicato al cinema indipendente organizzato dal padron cocorullo e sotto la direzione artistica di andrea nobile anche quest'anno la manifestazione condotta dalla giornalista daria scapitta ha registrato molte presenze nella cittadina del golfo di policastro e entusiasmato il pubblico presente tantissimi gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo che sono stati premiati i premi sono stati questo caso consegnati alla carriera a enrico manzina premio miglior attrice non protagonista per mancino naturale a carri a ricciarelli premio 50 anni cinema a leonora giorgi premio icona cinema italiana anna mazzamauro premio rivelazione mare fuori a giovanna sannino premio attori rivelazione per la fiction mare fuori a gretano migliaccio tantissimi i premi che sono stati quindi consegnati in una manifestazione che ha animato il pubblico e soprattutto entusiasmato i presenti con la speranza che possa continuare negli anni e soprattutto possa garantire ancor più emozioni